Alfa 9, scelgo te! Squirtle, scelgo te! TG8, Charmeleon, andate! Pikachu! Pikachu! Nuova aranciata Slam! Il gusto che ti prendo! Trova la S sotto il tappo e vinci subito un esclusivo Game Boy Nintendo Color! Non hai vinto? No problem! Partecipa all'estrazione dei favolosi cappellini Pokémon Slam e dei fantastici portatili e-book colorati! Grazie a tutti!